Il lavoro è la grande sfida dei prossimi anni, ma bisogna riportare in primo piano la dignità del lavoratore. A questo è chiamata prima fra tutte la politica, ne è convinto Monsignor Luigi Renna, Vescovo di Cerignola Scolisatriano, che ha lanciato una riflessione in occasione del primo maggio, Festa dei Lavoratori. Alessandra Torsilli. La quantità, la qualità e la dignità del lavoro sono la grande sfida dei prossimi anni per la nostra società, nello scenario di un sistema economico che mette al centro consumi e profitto e finisce per schiacciare le esigenze del lavoro. Inizia così il messaggio di Monsignor Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola Scolisatriano, in vista del primo maggio, la Festa dei Lavoratori. I due imperativi del benessere, del consumatore e del massimo profitto dell'impresa hanno risolto il problema della scarsità dei beni e delle risorse necessarie per investimenti, innovazione e progresso tecnologico nella nostra società. Ma hanno finito per mettere in secondo piano le esigenze della dignità del lavoratore, indebolendo il suo potere contrattuale, soprattutto nel caso delle competenze meno qualificate, scrive Monsignor Renna. Di fronte a questo scenario, innanzitutto è necessario allora modificare il nostro metodo di azione. Farsi prossimo agli ultimi, comprendere e condividere le loro urgenze, non sono solo un compito pastorale, ma sono un'esigenza fondamentale per l'intera società e in tutte le sue componenti, nonché un compito ineludibile per la classe politica. Abbiamo bisogno, sempre più, scrive ancora il Vescovo della Diocesi di Cerignola, di forme di sussidiarietà circolare, di solidarietà che vedano nuove configurazioni di collaborazione fra tutti i soggetti. A sottolineare questa esigenza anche i Vescovi italiani, nel messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, in vista del primo maggio. Tre, in particolare, gli interventi che i Vescovi ritengono fondamentali. Rimuovere gli ostacoli per chi il lavoro lo crea, creare buon lavoro, avere istituzioni formative, scuole, università, formazione professionale all'altezza di queste sfide, creare una rete di protezione per i soggetti più deboli, uno strumento efficace di reinserimento e di recupero della dignità perduta per gli scartati, gli emarginati che desiderano reinserirsi nel circuito di diritti e doveri della società. In occasione del primo maggio, alle ore 9, il Vescovo della Diocesi di Cerignola Ascoli-Satriano presederà una santa messa nella Rettoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Cerignola. Senza ritrovare una cultura che stima la fatica e il sudore, non ritroveremo un nuovo rapporto con il lavoro e continueremo a sognare il consumo di puro piacere. Il lavoro è il centro di ogni patto sociale, non è un mezzo per poter consumare, così scriveva Papa Francesco nel suo discorso in occasione della visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, incontrando i lavoratori dell'ILVA.